Motore, azione, dai via! Allora scusa, ci siamo mai messi d'accordo? No. Che carta hai detto? Quante di fiori? Allora tentiamo l'esperimento che io ho fatto solo una volta all'isola del Va, con te Barbo. Allora cosa avevo fatto? Aspetta che non mi avevo finito la pellicola, ho preso le carte e ho messo così. Tu che carta vuoi? E se cambio? Fa così. No dai! No, è impossibile. Però prima avevi detto un'altra carta. Donna dei cuori. Sì vabbè la quinta. Donna di cuori. Non sapevi che era la quinta. Scusa, che discorso è? Eh? Quattro di più. Aspetta un attimo. A pagamento. Scusa, qua che finissi. No, non si va bene. Quattro di più che potessi essere. Quattro di più. Che numero, eh? Sa tutta la stessa. È successo. Al tacco, al tacco. Prova a sentire. No dai. Allora, prego, prego, prego. Eh beh, bravo. Ecco qua, le ciai. Ecco, allora, cosa prendi? Quello che prendi te. Allora, prendiamo un negroni. Questa è o non vuoi un bicchiere di vino? Allora, se lo prende un negroni. No, però è tu guido. Allora, due negroni. Fai vedere? Un bicchiere di vino rosso. Lo si?